Giornata importante per la Puglia che prosegue spedita con la campagna vaccinale superato il tetto di 3 milioni di somministrazioni di vaccini anti-covid. La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose del 52,26% mentre il 23,82% ha ricevuto anche la seconda dose. La Puglia supera il numero nazionale, in Italia sono il 50,85% e i cittadini che hanno ricevuto almeno una dose compreso il monodose. Gli immunizzati sfiorano il 25% della popolazione. In Puglia la percentuale dei positivi al covid scende all'1,4%. Il rapporto tamponi contagi più basso degli ultimi sei mesi resta la preoccupazione per la circolazione della variante indiana o delta ma migliora la situazione epidemiologica negli ospedali. Dobbiamo lavorare, dice Emiliano, sulla variante per evitare che diventi prevalente e possa quindi scatenare un incremento dei contagi in autunno in corrispondenza dell'apertura delle scuole. Il governatore sta studiando anche il futuro dell'ospedale covid in fiera allestito in circa due mesi tra dicembre e febbraio per far fronte alla terza ondata, l'idea della regione di trasformarla in un centro permanente per le emergenze.